E' stata fissata per il 4 di giugno nell'Aula Costa del Palazzo di Giustizia la sentenza del processo in appello da Antonello Montante, ex leader degli industriali condannato a 14 anni in primo grado per corruzione, accesso abusivo ai sistemi informatici, associazione finalizzata alla corruzione, quattro udienze di arrenga per Giuseppe Panepinto, tre per Carlo Taormina, sono i due difensori dell'ex leader degli industriali. Chiesta la soluzione per Montante dalle difese, 11 anni e 4 mesi invece, la pena richiesta dalla Procura Generale. Sono in tutto 5 gli imputati di questo processo che si celebra corrito abbreviato e dunque a porte chiuse, insieme a Montante, Diego Di Simone Perriccone, ex capo della security di Confindustria, Marco De Angelis, un poliziotto, l'ex questore Andrea Grassi, il colonnello della Guardia di Finanza Gianfranco Ardizzone.